oggi sono lieto di parlarvi di rigenera il nostro nuovo biomateriale di origine sintetica è un materiale bifasico composto da 30 per cento di idrossoapatite e 70 per cento di betasolfato tricalcio questo mix ci permette da una parte un rapido assorbimento per lasciare spazio all'osso nativo dall'altra di mantenere il volume desiderato un'altra importante caratteristica è la porosità che è stata pensata per ottenere un eccellente osteoconduttività e osteogenesi è disponibile in tre versioni nella versione con ampolla da 0,5 con granuli più piccoli che vanno da 0,25 a 1 e l'altra da 2 con granuli da 1 a 2 mm e infine la versione di rigenera 3d l'innovativo processo che fa parte del nostro workflow digitale un blocchetto customizzato per la singola soluzione per la singola esigenza per il singolo paziente le applicazioni di rigenera trovano spazio in quasi tutte le rigenerative anche quelle più complesse quelle più estese dove viene utilizzato come riempitivo alle nostre 3d mesh le 3d mesh sono le griglie customizzate realizzate in titanio e che derivano dal nostro processo digitale e che hanno il grande vantaggio di pianificare e progettare l'intervento e quindi ridurne sensibilmente i tempi in poltrona da un'ora e mezza a mezz'ora un'altra caratteristica è la tramatura che possiamo scegliere e pianificare sul caso e sulla soluzione più idonea e sulla bordatura che possiamo progettare e adattare sulla anatomia del paziente per ulteriori informazioni vi invito a consultare il nostro sito www.btk.dental e lì i nostri esperti sono a disposizione per darvi tutte le risposte al nostro nuovo rigenera grazie a presto a presto a presto a presto a presto